Momenti di panico a Grande Fratello con Giuseppe Garibaldi che ha accusato un malore e Anita Olivieri ha iniziato a gridare chiedendo agli altri di avvisare gli autori e chiedere aiuto. Raga dai chiamate subito il GF. Dovete chiamare il GF, si sente urlare la romana. Poco dopo davanti la casa è arrivata un'ambulanza e pare che il bidello calabrese sia stato visitato immediatamente. Per circa mezz'ora su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello è andata in onda un'inquadratura ferma sulla piscina ma con il suono dell'ambulanza in sottofondo. La produzione del reality show di Canale 5 non è ancora intervenuta per svelare le reali cause del malore di Giuseppe Garibaldi che almeno nella mattina di sabato 3 febbraio 2024 non ha ancora fatto rientro in casa. Non si hanno ancora notizie o certezze ma secondo le prime indiscrezioni che provengono tutte da fonti non ufficiali, il concorrente del reality show avrebbe avuto un calo di pressione. In serata, appena si è diffusa la notizia, sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni. Alcuni utenti hanno pensato che fosse svenuto a seguito di una scossa mentre si trovava in bagno. Questa ipotesi è nata dopo uno scambio tra Stefano e Fiordaliso. Pare comunque che il concorrente sia stato ricoverato all'ospedale di Tor Vergata. Ma come sta Giuseppe Garibaldi? Come detto, nessuna news sul sito del Grande Fratello ma forse Paolo Masella è stato informato dagli autori. In un video apparso su X, infatti, si sente Greta, preoccupata per la situazione, chiedere informazioni al macellaio, ma secondo te come sta? E Paolo, tranquillizzando l'ex single di Temptation Island ha affermato che il collaboratore scolastico starebbe bene. Sembra dunque che le condizioni di Garibaldi non siano preoccupanti e dunque a breve potrebbe fare ritorno nella casa, ovviamente a seguito di tutti i dovuti accertamenti. Ai microfoni per far luce alla questione interviene il fratello. Grande Fratello 2023, ore di apprensione per i fan. Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore che ha richiesto il trasporto d'urgenza presso l'ospedale. Agitazione e panico anche tra gli inquilini. Rosy Cine ha corsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava, chiamate il GF. Al contempo Marco Madaloni è intervenuto dicendo, non toccategli il cuore. Dopo l'arrivo dell'ambulanza i fan non hanno fatto altro che attendere aggiornamenti. Garibaldi si è sentito male al GF. La situazione. Al momento del malore del concorrente, dall'inquadratura puntata per qualche secondo sulla panoramica della zona bagno si è intravisto ben poco, la regia ha staccato l'audio dei microfoni dei concorrenti e ha fissato la diretta sulla piscina della casa. Sembra che stia in ospedale al policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti, era cosciente quando è andato via e l'ambulanza è andata via a sirene spente. Voci dicono un semplice malessere, per fortuna, si legge su X, è stato un calo di zuccheri. È in osservazione per la botta che ha preso cadendo. Nulla di grave per fortuna. Garibaldi è stato dunque ricoverato presso l'ospedale di Tor Vergata sotto stretta osservazione del personale medico. Ma come sta? La prima notizia sulle condizioni di salute del Geffino riusciamo ad apprenderla attraverso un post su X di Nicola Garibaldi, il fratello, poi repostato anche da altri utenti che hanno dunque provato a diffondere velocemente la notizia. Buongiorno a tutti, io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d'affetto. Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti, recita fortunatamente il messaggio che ha certamente rincuorato quanti non riuscivano ancora a comprendere la situazione attuale del concorrente. In generale comunque, c'è molta preoccupazione al grande fratello dopo il malore di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente si è sentito male nella serata di venerdì 2 febbraio ed è stato soccorso dall'ambulanza, che lo ha portato fuori dalla casa del grande fratello. Anita ha gridato e chiamato gli altri inquilini della casa nella zona dei bagni. Rosie Cine ha corsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava, chiamate il GF. Anche Marco Madaloni è intervenuto intimando i coinquilini a non toccargli il cuore, frase che ha fatto gelare il sangue ai telespettatori ma anche agli stessi concorrenti del reality show. Non toccategli il cuore, ha detto lo sportivo per poi far calare il silenzio. L'ambulanza è arrivata dopo poco tempo, come si vede da altri video pubblicati sui social, dove si sente in sottofondo il suono delle sirene. Il concorrente è stato soccorso e portato fuori dalla casa del grande fratello. Come sta Giuseppe? Cosa è successo? Sui social sono uscite diverse indiscrezioni sulle condizioni del vidello calabrese. Sembra che stia in ospedale al policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti, era cosciente quando è andato via e l'ambulanza è andata via a sirene spente. Voci dicono un semplice malessere, per fortuna, si legge su X, è stato un calo di zuccheri. È in osservazione per la botta che ha preso cadendo. Nulla di grave per fortuna, si legge ancora. Ma ovviamente non ci sono state conferme ufficiali da parte del grande fratello. Giuseppe Garibaldi si troverebbe ancora ricoverato all'ospedale di Tor Vergata in osservazione, ma come detto queste sono le voci che circolano sul web, dove moltissimi utenti hanno commentato il malore del concorrente del grande fratello. E infine, parliamo di confessioni, Stefano da solo con Rosi decide di parlare di Letizia. Grande fratello, lo sfogo clamoroso di Stefano Miele. Nelle ultime ore dentro la casa abbiamo assistito a diverse discussioni e duri faccia a faccia. Per Lavatiero, ad esempio, se l'è presa con Massimiliano varresse accusandolo di essere troppo aggressivo nel suo nuovo ruolo di regista di un cortometraggio. Anche Beatrice Luzzi ha tirato in ballo l'attore affermando «Name Max fa veramente paura». «Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l'ho percepito da subito», ha detto l'attrice, «e lui sa che l'ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi». Ma non è finita. Sergio Dottavi ha voluto rispondere con un megafono a qualcuno che ha gridato degli insulti fuori dalla casa. Inoltre durante la notte Stefano Miele si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Rosy Chin. Stefano Miele ha spiegato perché ha nominato Letizia Petris. Durante un lungo sfogo parlando con Rosy Chin lo stilista ha chiarito il motivo della nomination data lunedì scorso. In particolare Stefano ha criticato Letizia perché ha accusato Vittorio Menozzi di essere una pedina, ma non mi è proprio piaciuta questa cosa. Inoltre il concorrente ha detto di trovare il patetico un comportamento in particolare. «Trovo patetico», ha detto Stefano a Rosy, che poi stanno le ore. «Si baciano». Così, poi, si nominano. Rosy ha chiesto a chi si riferisse e Stefano ha spiegato Vittorio e Letizia. E la chef ha risposto «allora da entrambe le parti». «E lo stilista? E allora è fasullo». «È tutto fasullo». «Tutta una scusa». «Ancora, secondo me, invece, in fondo c'è dell'antipatia». «Però è una cosa che sta andando avanti da quando sono entrato». «Quella cosa di Paolo, la gelosia, le mutande, non mutande». «E c'ho ragione perché poi alla fine vedi come sono le cose». «Paolo ha tirato fuori una cosa di un mese e mezzo fa, mi devi ancora spiegà perché devo aprire gli occhi con Letizia». «Apia, ma che mi frega». Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.